Presidente, la città sta vivendo un risveglio particolarmente positivo, secondo lei cosa manca alla Spezia oggi? Manca davvero una gestione complessiva di quella che è l'offerta che possiamo mettere in campo, cioè avere davvero una panoramica di quello che è il nostro territorio in maniera che possiamo togliere dalla stagionalità l'afflusso massiccio di flussi turistici e distribuirli sul territorio e quindi fare un'offerta ponderata, manca questo tipo di pianificazione. Chi dovrebbe mettere mano a questa pianificazione? Un po' tutti, noi come ripeto anche come Camera di Commercio abbiamo cercato di fornire un tavolo perché questo possa avvenire, ci vuole la buona volontà da parte delle associazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, ma penso che sia un lavoro inevitabile che anzi dovremmo accelerare il più possibile. Sempre meno giovani decidono di intraprendere l'attività artigianale e ci sono sempre più anziani o ovvero se tante che invece lo fanno, quindi questo che fare a questo punto e convincere i giovani veramente ad intraprenderla. Dobbiamo renderla più attrattiva, renderla più attrattiva dal punto di vista della immagine che possiamo dare dei nostri mestieri. Noi dobbiamo ridare valore e far credere ai ragazzi che questa scelta di sacrificarsi anche in lavori che possano dare meno prestigio dal punto di vista del belagione ma possano dare grandissime soddisfazioni anche economiche e quindi dobbiamo diventare più attrattivi. Presidente, lo Spezia in Serie A quanto è inciso sulla ripresa della città? Quanto può incidere? Ma incide, incide parecchio perché intanto siamo continuamente nominati e siamo al centro di... ma lo Spezia in Serie A ormai dobbiamo riuscire a portarlo ad un livello che rimanga fra quelle squadre di metà classifica che ci restano permanentemente. Lei lo segue allo Spezia? Io lo seguo, sono andato allo stadio parecchie volte, mi sono fatto un po' di nervoso come tutti gli spezzini in alcune partite dove avremmo meritato di più, ma io sono fiducioso, il nuovo mister mi sembra persona molto capace, sono convinto che riusciremo a farlo anche quest'anno. Bene, l'intervista completa a Davide Mazzola, presidente della CNA, questa sera alle 21.30.